Il secondo quarto di finale tra Top Dancing e Parrucchiere Renato di questa 29esima edizione dell'Inghe Calle, la squadra della Top Dancing ha vinto il proprio aggruppamento con sette punti, vincendo due partite pareggiandone una contro il Borussia Perignon, mentre più è difficoltoso il percorso da parte della squadra del Parrucchiere Renato che è riuscita a strappare con fatica il secondo posto nel proprio aggruppamento e dunque sulla base di queste premesse la formazione in maglia arancione dovrebbe partire con i favori del pronostico ma la gara sarà davvero molto interessante sin dall'avvio vengono espletate all'inizio le formalità di dito con i saluti in campo e appunto sulla tribuna, poi parte il match con Campagna che esplode il destro e il tiro che termina di poco a lato dunque prima minaccia e poi ancora un'altra azione con Terenzi che trova pronto vita sulla sua strada, reagisce la formazione di Parrucchiere Renato con questa sventola da parte di Ciaurelli, la palla termina di poco a lato con la diviazione anche del portiere Cardiuk e poi c'è il vantaggio a sorpresa da parte della squadra di Parrucchiere Renato con Martucci, bravissimo a trafiggere con un preciso diagonale il portiere Cardiuk a portare dunque in vantaggio la sua squadra, Parrucchiere Renato dunque che sblocca il match e a questo punto per la squadra della Top Dancing bisognerà reagire cosa che fa immediatamente grazie a Campagna che riceve il pallone da pinna e poi sfonda con questa azione sul secondo palo dunque pareggio dopo praticamente qualche minuto aver subito appunto il gol dello svantaggio c'è stato l'immediata reazione, l'immediata reazione, il pareggio appunto della squadra della Top Dancing che adesso prova a spingere però nella seconda parte di partita con questa possibilità che capita sui piedi di Piovesan che lascia partire un destro terrificante sul primo palo che beffa sul primo palo vita con questo destro la formazione della Top Dancing passa dunque in vantaggio e poi una disattenzione clamorosa della retroguardia di Parrucchiere Renato che subisce anche il gol del 3-1, probabilmente Bacoli con un velo ha messo fuori causa vita, non abbiamo visto se avesse toccato il pallone oppure no il giocatore nel maglio arancione, fatto sta che adesso Top Dancing ha due reti di vantaggio e per Parrucchiere Renato le cose si complicano in maniera incredibile, adesso però c'è Ciaurelli che mette dentro il pallone il tiro che è stato poi respinto dal portiere appunto della Top Dancing e poi c'è questa ripartenza con Terenzi che chiama in causa con questa bordata il portiere avversario Vita che se la cava egregiamente, ancora però Parrucchiere Renato ci crede con questa incursione da parte di Mattarelli che manda a sedere tutta la difesa della Top Dancing e poi è bravissimo Ciaurelli a ribattere in rete sul palo appunto colpito dal proprio compagno, Tapin vincente 3-2 poi campagna all'occasione del match point, calcia però sui piedi del portiere avversario che è anche fortunato perché il pallone poi carambola sulla traversa e c'è dunque soltanto un gol di differenza fra le due squadre, il palo intanto colpito da Martucci su questo calcio di punizione e poi c'è proprio all'ultimo respiro una grande possibilità che capita sui piedi di Aquilani che si fa trovare pronto su questa sponda del proprio compagno, splendida azione da parte di Parrucchiere Renato e dunque 3-3, incredibile dunque epilogo di questa partita che porta la sfida a punte supplementari dove non succederà praticamente nulla, si fa i calci di rigore, tiro da parte di Campagna, era il quarto tiro dal dischetto neutralizzato dal portiere Vita e dunque vantaggio per Parrucchiere Renato che poi prova adesso e viene parato il tiro invece di Mattarelli dunque si ritorna nuovamente in parità, poi c'è il quarto rigore che è stato battuto dalla formazione della top dancing con Petitti che calcia il tiro, non era Petitti scusate ma Piovesan che ha calciato sul portiere avversario e poi c'è un altro tiro dal dischetto questa volta definitivo se avesse segnato sarebbe stata qualificazione e invece non ce l'ha fatta il numero 4 Fantin della formazione in maglia bianca e dunque si va ad oltranza, c'è questo tiro da parte di Petitti che al nono calcio di rigore riesce a segnare poi il palo sanguinoso colpito da Martucci, uno dei migliori di questa sfida che ha colpito il palo e dunque questo errore è stato essenziale per la sua squadra e top dancing va dunque alle semifinali vincendo una sfida infinita ai calci di rigore contro parrucchiere Renato e può dare dunque inizio ai festeggiamenti.